Inarco, Fabrizio Stefano e Marcello Riccardo. Pedale contro l'eserci. Troviano Marco e Vincenzo Armadori. Inarco, Fabrizio Stefano e Marcello Riccardo. Troviano Marco e Vincenzo Armadori. Troviano Marco e Vincenzo Armadori. Troviano Marco e Vincenzo Armadori. Un momento inizia a direzione di Castel Aroch. L'esercizio Romano e Vincenzo Armadori. Inarco, Fabrizio Stefano. Inarco, Inarco, inarco. Inarco, Inarco, inarco. E' una nuova, ecco qua, eh, hai preso i punti, Adi. Adi, passando giù per preso i punti. Pressione, sposta il posto a destra. Controla i gatti. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.